La rassegna stampa è offerta da Martedì 2 dicembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa L'apertura dedicata ad una notizia di politica, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito in una nota stampa che resterà al suo posto fino alla fine del semestre europeo dopodiché effettuerà le dovute valutazioni Nel frattempo il Premier Matteo Renzi accelera sull'Italicum dopo aver ricevuto il sì da parte della direzione del Partito Democratico e poi lancia un ultimatum a Silvio Berlusconi Ora basta trattare tutte le altre notizie all'interno della nostra rassegna Andiamo a leggerle insieme Iniziamo con il quotidiano nazionale romano il messaggero Non lascio prima di gennaio Napolitano offre una sponda sulle riforme Resto fino al termine del semestre dell'Unione Europea Poi valuterò Renzi accelera sull'Italicum Sì è la direzione PD Ultimatum Berlusconi Ora basta trattare L'intervista 1 Nomadia contro il caos delle leggi In arrivo 5 nuovi codici L'intervista 2 Gentiloni dalla Russia alla Libia Privilegiare l'interesse nazionale Rapito e strangolato L'atroce ultimo giorno del piccolo Andrea Ragusa La procura frena sulla violenza sessuale Ascoltato ancora l'uomo che ha trovato il corpo Taglio centrale Usura Imprenditore sequestrato e seviziato Otto in manette Roma Arrestata l'ex moglie di De Rossi Taglio basso Pasolini battaglia per la verità Gli assassini furono almeno due La pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno Bloccato in una villa Sergio Notaro Latitante di Squinsano I carabinieri stavano Stanano a Cellino Il presunto esponente della SCU Emergenza Taranto Ilva possibile un decreto per l'ingresso dello Stato Primaria del centro-sinistra L'ex sindaco il 57% Modello Emiliano Apertura e Grillini NCD per Schitulli La Gazzetta di Lecce Stefano tra i papabili per la corsa Palazzo Carafa Il dopo primario Il senatore di Selle In grado di attrarre consensi Oltre il centro-sinistra Taglio centrale La classifica Qualità della vita Salento a picco La provincia di Lecce Perde ben dieci posizioni E precipita al centesimo posto Informativa dei NAS Caso vaccino Il rapporto in procura Proda In procura L'informativa dei NAS Sul vaccino antinfluenzale Taglio basso Squinzano Il latitante Sergio Notaro Bloccato in una villa Stanato Accellino Il presunto Esponente della SCU L'iniziativa Ateneo Islamico Paladini in Curia Prezioso momento Di dialogo interreligioso L'undici si va in comune Ieri il presidente di Confim È stato ricevuto Dall'arcivescovo D'Ambrosio Infine il nuovo Quotidiano di Puglia Qualità della vita Salento Giù Male i redditi Servizi e la sicurezza Meglio Tempo libero Cultura e ambiente Politica Primaria L'analisi del voto Sul territorio Primato di Stefano Processo nel pedile cese Tra accuse e veleni Cronaca L'inchiesta Clane politica Squinzano Il latitante Scovato a Cellino Sfuggì al blitz Catturato Notaro Metrangolo Il figlio Resta in cella Taglio basso La camera contro l'obbligo Di smontare i lidi In inverno Approvato l'emendamento Nella legge di stabilità Gabellone intanto Incontra i sindaci Replica Lagodelli La regione ci dia la delega O si accolli L'orchestra Tito Schipa Pagine interne Del nuovo quotidiano Di Puglia Vuoti resi Sconti sulla spesa Inaugurato il primo Eco compattatore Denaro e buoni In cambio di lattine E plastica L'assessore guido Nelle prossime settimane Al via Altri cinque impianti La classifica Del solo E ventiquattro ore Qualità della vita La provincia di Lecce Scende di dieci gradini Il Salento Si piazza Al centesimo posto In graduatoria Su centosette Fanno da zavorra Disoccupazione Reddito basso E sicurezza I commenti Un bel posto Dove vivere I turisti Se ne sono accorti L'analisi del presidente Del corso di laurea In sociologia Terra di cultura Gli amministratori Imparino a investire I nodi Della politica Maggioranza compatta Tutti in aula Con perrone Forza Italia Nessun malumore Attacchi strumentali Della minoranza Rotundo Subito Una nuova giunta Con le migliori competenze Lo scontro politico Sul laico La regione Non può tirarsi fuori Orchestra Gabellone Torna all'attacco Ci trasferisca le funzioni O ci dica Che vuole fare Il progetto Università Islamica Confime a colloquio Con il Vescovo Il presidente Paladini Lavoriamo al dialogo Fra le religioni L'undici Vertice Con il sindaco Concludiamo infine Con lo sport Il monito Dell'ex Cucciari Lecce Attento al Foggia L'allenatore Della Lupa Roma Già affrontato La squadra di De Zerbi Rimediando una sconfitta Sono ben organizzati I miei ragazzi Sono stati messi in difficoltà Sul piano del gioco E intanto L'ERDA Blinda la squadra Da oggi Allenamenti a porte chiuse Termina qui anche oggi La nostra rassegna stampa Grazie per essere stati In nostra compagnia Vi diamo appuntamento Come sempre Con TG News 24 A tra poco La rassegna stampa È stata offerta da La rassegna stampa La rassegna stampa La rassegna stampa La rassegna stampa